Un piccolo gesto che ha in sé un grande significato. È partita dall'ASBA, l'Associazione degli Stabilimenti Balneari di Margherita di Savoia, l'iniziativa di richiamare a raccolta i colleghi gestori delle spiagge di tutta Italia e celebrare il proprio Giubileo della Misericordia. Alcune sacche contenenti prodotti per l'Igeme Intima, diversi per donne e uomini, verranno consegnate in dono a Papa Francesco il prossimo 22 marzo durante l'udienza del mercoledì. A richiedere questo contributo è stato l'elemosiniere padre Conrad Krageschi, figura che ha il compito di curare l'elemosina fatta dalla Santa Sede dei Poveri, il quale ha ritenuto che restituire dignità ai clochard che dormono nei pressi del colonnato del Bernini a Roma non voglia dire solo garantire un letto e un pasto caldo, ma anche dare loro la possibilità di curare religione intima. Ciò che ha stupito Krageschi degli operatori della capitale pugliese e della balneazione attrezzata è stata la scelta della figura di Papa Giovanni Paolo II, l'ultimo pontefice a essere canonizzato come loro protettore, e di portare una sua statua in processione lungo le strade di Margherita, un incontro, quello col Papa, che è anche un atto di affidamento della stagione estiva da parte dei concessionari. Per noi ha un grande significato, ha affermato Antonio Capacchione, presidente pugliese e vicepresidente nazionale di Sib, sindacato italiano balneari, ricevere la benedizione del Santo Padre all'inizio della stagione balneare. Ci auguriamo che quest'anno il tempo sia migliore e clemente sia per noi che per gli ospiti che vorranno raggiungerci.